Con questa perla da centrocampo, Alejandro Lalli mette la parola fine ad un match palpitante e pieno di emozioni, una gara che ha divertito gli spettatori sia nel primo che nel secondo tempo. Quella di ieri contro il Penne è stata una gara piena di episodi, che hanno caratterizzato il risultato finale soprattutto nella prima frazione di gioco. Pronti via, gli ospiti sono subito pericolosi con Califfa, che complice una deviazione colpisce la traversa. Due minuti dopo Elsa Nicolò però a passare con una bella azione figlia però di una grave disattenzione difensiva. Di Palantonio, tutto solo davanti al portiere, colpisce la traversa. Sul rimpallo è l'esto Parmigiani a buttarla in rete per l'1-0. Sotto di un gol la reazione del Penne non tarda ad arrivare. Al tredicesimo prima con una punizione insidiosa che sfila davanti lo specchio della porta, poi al venticinquesimo ancora con una punizione, questa volta però sfruttata al meglio. La palla arriva nel cuore dell'area di rigore, granata, in sacca, in dubbia, posizione di fuorigioco. La gara ormai è ancora più equilibrata, ma a pochi istanti dal termine del primo tempo l'episodio decide la partita. Di Sante estrae dal cilindro un lancio perfetto per Petronio, che viene messo giù in piena area. Rigore ed espulsione per il difensore avversario. Alla battuta Lali non sbaglia e sigla il 2-1. Nella ripresa il Penne è in nove e si butta tutto in avanti, lasciando prateria agli avversari. Al decimo infatti Lali si invola sulla destra e offre un assist facile facile per Parmigiani che non deve far altro che spingere in gol. La gara però si mette in discesa per il San Nicolò, anche se gli ospiti hanno un colpo di coda al 38esimo, quando in prota sigla su rigore il 3-2. Il San Nicolò però amministra bene e c'è ancora il tempo per un gran gol di Lali, che vede la barba fuori dai pali e lo beffa con un palonetto dai 40 metri. Mister, un risultato che sicuramente non la soddisfa. Siete in zona play-out, dovete risalire la china. Un 4-2 a chi dà le colpe principali? Ma è uno stesso. Le colpe principali sono nostre. Perché, dicevo prima, noi se dobbiamo cercare di salvarci, dobbiamo acquisire una mentalità più determinata, più cattiva. e non possiamo venire qui e raccontare una partita dove abbiamo preso 4 gol. Sarebbe una partita senza storia. Invece la partita, per il tempo, penso che l'abbiamo fatta noi, creando 3-4 occasioni, però ritorniamo a casa con 4 gol, frutto di 2-3 errori di deconcentrazione totale di alcuni ragazzi che in maniera individuale, con la difesa schierata, palla nostra prendiamo gol. Quindi ci sono errori di deconcentrazione e questo non aiuta sicuramente una squadra che vuole salvarsi. Quindi nel primo tempo, parliamo un po' della gara, nel primo tempo la partita è stata più scoppiettante, diciamo, da una parte e dall'altra. Nella seconda frazione invece adesso avete subito un po' troppo le ripartenze in velocità del San Nicolò. Beh, nel secondo tempo eravamo 11 contro 10. C'è stato l'episodio che ha cambiato la gara e a fine primo tempo dove noi abbiamo subito. Stavamo 1-1, la partita tranquilla. Noi abbiamo avuto occasione da gol. Stavamo bene in campo. Poi c'è stato questo episodio alla fine del primo tempo, calcio di rigore, di espulsione. Sai, 11 contro 10 non è facile. Poi in questo campo è così grande. Loro si sono aperti, hanno fatto girare palla. Noi correvamo, correvamo, ma è solo un episodio. Poteva riaprire la gara. C'è stato l'episodio del 3-2, il calcio di rigore. Alla fine abbiamo sfiorato il 3-3. E poi vabbè, 4-2 che non fa testo, insomma. Alla fine il gol. Un ripeto importante potrebbe essere quello di fare bottino pieno, soprattutto nelle gare casalinghe. Sì, io adesso questo è un mese che sto lavorando con i ragazzi. Abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo preso 3-4 giocatori che per un motivo o per un altro ancora possiamo schierare tutti insieme. Due o tre acciaccati stanno recuperando da una condizione fisica accettabile. Si spera che il tutto, inserendo i nuovi giocatori e facendo recuperare la condizione ad alcuni, riusciamo a tirarci fuori dal fondo classifica. Una cosa però è certo che dobbiamo metterci più cattiveria. Mister De Vico, l'imperativo era vincere. La vittoria è arrivata a un bel 4-2 che la soddisfa. Sì, è stata una partita probabilmente interessante perché comunque le due squadre sono affrontate avviso aperto, tutte e due avevano un gioco offensivo, loro giocavano con il rombo, noi giocavamo invece un pochettino sulle fasce laterali. È stata una partita di grandi occasioni, chiaramente un po' siamo stati agevolati dalla superiorità numerica che abbiamo avuto il secondo tempo, però voglio ringraziare tutti i ragazzi veramente per l'applicazione, l'impegno e l'attaccamento che hanno dimostrato per questa maglia. Il primo tempo è stato magari più divertente per il pubblico che era allo stadio, nel secondo tempo avete approfittato di più delle ripartenze e degli spazi che si erano formati. Sì, è vero, hai detto bene, il primo tempo è una partita molto equilibrata, loro hanno fatto breve, nei primi 15 minuti ci hanno messo in difficoltà. Dopo abbiamo preso le misure, il secondo tempo anche favoriti dalla superiorità, abbiamo fatto un buon giro palla, abbiamo giocato sugli esterni, abbiamo fatto il terzo gol, secondo me dovevamo essere più cattivi e cinici a chiuderla prima, perché poi alla fine può succedere anche che con una disattenzione la partita si rimette in gioco. Questo San Nicolò, possiamo dire, le sta facendo togliere delle belle soddisfazioni e domenica prossima c'è l'importante impegno col Castel di Sangro, scontro diretto per i play-off. Sì, la cosa che mi piace adottolineare è che la squadra cerca sempre di giocare, noi siamo una squadra che vuole sempre cercare di giocare palla a terra, una squadra molto offensiva, tanto è vero che noi lo sblocchiamo e facciamo tante reti, oppure rimaniamo inchiodati al palo perché gli altri hanno fatto meglio la fase difensiva. Questo vuol dire che il lavoro che cerchiamo di applicare viene svolto e mi fa molto piacere. Domenica andiamo a Castel di Sangro, è una squadra molto forte, una società blasonata, ma noi andremo con la nostra baldanza a cercare di ottenere il massimo.